Io, Cavaliere Don Chisciotte della Mancia, non posso rimandare oltre i miei disegni. Devo partire per vendicare offese, raddrizzare torti, soddisfare i debiti, riparare ingiustizie e correggere abusi. Oh, Principessa Dulcinia del Toboso, piaccia vi ricordarvi del cuore a voi soggetto che tante pene per amor vostro patisce. A voi, a voi, manderò in omaggio in ginocchio un gigante che per cagione dei miei peccati o per mia buona avventura al primo assalto lo vinca e lo riduca a poter mio. E continuando a infilare, sciocchezze su sciocchezze, nella maniera insegnategli dai suoi libri, da cui limitava il linguaggio, procedeva lentamente, mentre il sole saliva tanto intretta e con tale crescente ardore, che se un po' di cervello gli fosse ancora rimasto, avrebbe finito distruggersi.